Siete entrati in una sala e mi siete trovati con un alfa di mano. Questa è un po' una sfida, ospitando Vedo Zero al Quadrato, un documentario in forma di installazione di Andrea Caccia. Io ringrazio ovviamente Filmmaker perché forse è uno dei pochi festival che poteva accettare questa scommessa e questa anche un po' provocazione. Il come è una questione che da subito si è posta al centro del progetto e riflettere sul nostro rapporto con lo schermo, che quindi significa riflettere sul nostro rapporto con la visione, è qualcosa che è stato gettato dai ragazzi con cui il film è stato fatto. Noi vorremmo proprio anche mettere in gioco la nostra, la vostra reattività rispetto a a questa modalità. Qui non c'è un rapporto con lo schermo per cui lassù qualcuno fa iniziare il film, ma siete voi a farlo iniziare.